E' Legambiente di Pisticci ripropone da sabato 15 novembre un'importante iniziativa, gli imbianchini della bellezza. Riprendono infatti i lavori in piazza Gioni Lombardi a Pisticci le attività del gruppo di volontari imbianchini di bellezza promosse dal circolo Legambiente di Pisticci per portare avanti il progetto di rigenerazione urbana dedicato al rione di Rupo. Dopo la pausa legata alle festività di tutti i Santi e alle avverse condizioni del tempo, i volontari chiamati a raccolta delle associazioni pisticcesi tornano a prendersi cura di uno dei simboli più rappresentativi di Pisticci. Gli imbianchini di bellezza sono persone di tutte le età che da sabato 4 ottobre hanno cominciato a ripensare il di Rupo come un luogo da preservare e riportare all'antica identità. Dopo la frana della notte di Santa Polonia, il di Rupo ha acquistato nel tempo l'attuale configurazione architettonica caratterizzata da casette a schiera vero e proprio esempio di architettura spontanea di colore bianco dato dall'applicazione della pittura a calce. La rigenerazione dal basso rappresenta l'occasione per recuperare l'identità locale, in particolare del tessuto urbano che si presenta degradato perché spesso abbandonato e scarsamente manutenuto proiettando nel futuro un progetto non solo di conservazione e valorizzazione ma soprattutto di condivisione e partecipazione. Questo è quanto Laura Stabile, presidente del Circolo Legambiente di Pisticci, ribadisce per questa importante iniziativa. Gli incontri continueranno fino a giugno del 2015 per realizzare un progetto di riqualificazione che porti all'incontro tra amministrazione e territorio verso la redazione del piano comunale del colore della valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. Grazie.